Bene, siamo arrivati anche per questa settimana al momento dello scaffale LGBTQ di Oltre e cominciamo subito parlando dei libri ed intorni insieme alla nostra Lalla. Per la recensione di questa sera ho scelto il romanzo di esordio di un giornalista dell'Espresso, Tommaso Cerno, dal titolo Affa Taffa, pubblicato nel 2010 per le edizioni Mimesis. Scoprire la verità su se stessi e capire che la realtà è diversa da come la si immaginava e doverla affrontare è un'impresa difficile per un adolescente. È questo il tema di Affa Taffa, una sorta di romanzo di iniziazione che deve il suo titolo al nome e cognome dell'amuleto che il protagonista ha ricevuto in dono da uno strambo nonno e che narra la vicenda di Ben Revelant, un quattordicenne che traduce lettere d'amore su commissione e che a un certo punto decide di manometterle. Una sorta di sirano moderno che fa un po' lo sbruffone per vincere una scommessa a scuola e che più si inoltra in questo gioco e più perde spavalderia, più conosce se stesso fino a dover fare i conti con una omosessualità da sempre celata. Affa Taffa è una fiaba moderna, veloce e divertente, ambientata tra il nordeste friulano e la Francia che ci offre uno spaccato in clemente ed amaro sulla nostra provincia italiana con un lieto fine soltanto apparenti. Ringraziamo e salutiamo l'Alla mentre passando al cinema la Rory ci segnala Taking a Chance on God, Scommettere su un Dio film del regista irlandese Brandon Fay che è stato proiettato lo scorso lunedì nell'ambito dell'Europride 2011 alla presenza dello stesso John McNeil, il sacerdote cattolico su cui è appunto basato il film e che è fra i pionieri del movimento di liberazione dei diritti delle persone LGBT americano. Racconta gli 85 anni di vita di McNeil dall'infanzia ai suoi mesi come prigioniero di guerra nella Germania nazista dalla chiamata al sacerdozio alla sua passione costante per la giustizia e l'uguaglianza per le persone LGBTQ nella chiesa cattolica. Dopo la rivolta di Stonewall del giugno 1969 McNeil è divenuto una voce di liberazione per le persone gay e i suoi iscritti hanno ispirato la nascita di Dignity USA, movimento che lega le persone LGBTQ cattoliche in America. Il suo coming out in diretta tv dal programma Today, dopo la pubblicazione del suo libro La Chiesa e gli omosessuali, è rimasto nella storia. Va detto che a McNeil per diversi anni fu chiesto di rimanere in silenzio dalle autorità della chiesa guidate dall'allora cardinal Ratzinger e nel 1987 fu espulso dal suo ordine religioso dei gesuiti perché decise di rompere quel silenzio contestando il documento del Vaticano che definiva l'omosessualità un disordine oggettivo e una tendenza verso un intrinseco male morale. Oggi McNeil continua a proclamare che l'amore tra persone dello stesso sesso fa parte del disegno divino, combatte l'omofobia e la misioginia e continua a chiedere una riforma dell'insegnamento cattolico sulla sessualità. Questo film è una storia appassionata che offre la rara opportunità di guardare al cuore del viaggio di un uomo ispirato sempre alla ricerca di conciliare la sua vita di prete cattolico, di uomo gay e difensore di diritti delle persone LGBTQ. Che bello, veramente bello, guarda. Dobbiamo dire che l'Europride ci ha dato, e non è ancora finito, l'opportunità di conoscere molti aspetti della comunità LGBTQ. Durante questi primi dieci giorni di manifestazioni ci sono state tantissime presentazioni di libri, proiezioni, incontri e dibattiti. Un'iniziativa davvero esaltante. Esatto, iniziativa che avrà il suo culmine domani, sabato 11 giugno, per la grande parata dell'orgoglio gay, lesbico, bisex, trans, intersex e queer, che sfilerà lungo le vie del centro di Roma. Lo ricordiamo a tutti, il concentramento sarà in piazza dei 500, dalle ore 16 e intorno alle 17 il corteo partirà alla volta del Circo Massimo. E qui saliranno sul palco i rappresentanti del comitato organizzatore formato, ricordiamolo, da Archie Gay, Famiglia Arcobaleno, Agedo, Meet, Circolo, Mario Mieli, esiterà il concerto finale che vedrà protagonista niente popò di meno che Lady Gaga. No, Lady Gaga! Hai visto? No, non ci credo. Un bel colpo direi, pare proprio che il comitato organizzatore che ha disfuso il comunicato stampa proprio in questa settimana per annunciare la presenza della famosissima cantante statunitense sia riuscita a mettere a segno questo colpo importantissimo. Ecco, è una cosa molto importante perché Lady Gaga, lo sappiamo, si è sempre spesa in favore dei diritti per gay e lesbiche, quindi al concerto dell'Europride la vogliamo assolutamente. E infatti noi saremo lì, presenti durante il corteo e pronti anche a goderci il concerto a questo punto, no? Eh guarda, già ti ci vedo, guarda. Come immaginerete tutte le iniziative a tema per questa settimana sono concentrate a Roma nell'ambito dell'Europride, ma per la prossima settimana vi ricordiamo gli appuntamenti da non perdere a Siena il mercoledì sera con l'Aperipan organizzato dal Movimento Pansessuale presso il Tusce Pub in Piazza del Sale e ad Arezzo il giovedì con l'aperitivo del Circolo Archie Gay Chimera Arcobaleno presso il Siddhartha Bar in Corso Italia. Ma assegnatevi anche questa data, 25 giugno dalle ore 16.30 si terrà il Pride Milano 2011, la manifestazione per i diritti delle persone LGBTQ che annualmente ha luogo nella città di Milano. Nelle prossime puntate vi daremo maggiori informazioni. Allora ci salutiamo e contiamo di vedervi e abbracciarvi tutti domani a Roma per la grande sfilata dell'Europride 2011. Eh già, anche perché venerdì prossimo, oltre alle differenze, non andrà in onda per lasciare spazio alla finale di campionato di basket che vedrà protagonista anche la Montepaschi Siena. Vi ricordiamo quindi come potete contattarci attraverso il numero 366 2809050, la mail redazione.oltreledifferenze.gmail.com, la pagina Facebook e il blog oltreledifferenze.splinder.com. Ci salutiamo qui e vi aspettiamo venerdì 24 giugno, pochi minuti dopo le 21 sulle frequenze di Antenne Radio S o in diretta online dal sito www.antennaradios.it Per andare verso l'ultima puntata, ahimè, nata di questa seconda stagione e ovviamente, come sempre, oltre le differenze! Oltre le differenze, alla radio si parla di omosessualità ai dintorni. Una finestra sul mondo arcobaleno. Ah però! Tutti i venerdì dalle 21 alle 22 su Antenna Radio S. Oltre le differenze!